la croix è una delle principali aziende che si occupa di progettazione e produzione elettronica di sistemi embedded e di oggetti industriali connessi la nostra missione accelerare i progetti dei nostri clienti producendo soluzioni iot industriali e funzioni elettroniche per applicazioni complesse il modula nel reparto manutenzione ci permette di immagazzinare tutte le piccole parti di cui abbiamo bisogno per la manutenzione delle nostre apparecchiature il modula ci permette di stoccare i componenti in verticale e di recuperarli abbastanza rapidamente perché sono tracciati ordinati e organizzati per cassetto l'operatore chiama direttamente il cassetto dove si trova il pezzo di cui ha bisogno lo preleva e può quindi svolgere le sue operazioni abbiamo scelto il climate control per proteggere i nostri PCB dagli effetti dell'umidità che può causare difetti durante la produzione il climate control è perfetto per limitare questi effetti perché ci permette di controllare l'umidità e la temperatura e di limitare l'impatto di questi due fattori in precedenza prendevamo i sacchi di PCB sottovuoto che dovevamo aprire rimuovere un certo numero di PCB e poi dovevamo riconfezionare questi PCB e per farlo dovevamo rimetterli sottovuoto si trattava di un'operazione aggiuntiva che richiedeva l'impiego di personale tutte operazioni a basso valore aggiunto che dal punto di vista ergonomico erano anche gravanti perché i PCB sono piuttosto pesanti e richiedevano una notevole manipolazione oggi grazie a modula abbiamo risolto il problema perché non dobbiamo più riconfezionare i PCB una volta aperta la busta recuperiamo i PCB non utilizzati e li rimettiamo direttamente nel modula che è protetto sia in termini di temperatura che di umidità